Cambio al vertice in Giordania, Maruf El-Bahit, ex generale, e il nuovo premier, sostituisce Samir Rifai che sconta una politica economica in visa al popolo. Un nuovo governo, voluto dal re Abdullah II per avviare un processo di riforme e calmare la piazza, che anche qui da tre settimane protesta contro il Karovite per un miglioramento sociale. Ma la nomina non accontenta l'opposizione islamica e El-Bahit, già premier nel 2005, non è un riformatore, dicono, e sotto di lui ci sono state elezioni scorrette. Si tratta della sostituzione di una persona con un'altra, ma la tendenza non cambia. Il premier non rappresenta la maggioranza del Parlamento e non è una scelta libera, come nei paesi democratici. La domanda generale è di cambiare la tendenza politica e di avviare riforme radicali. Speriamo che l'attuale cambiamento sia un passo in questa direzione. Il 25% dei giordani vive in povertà, la disoccupazione è al 15%. Questa è la situazione che il Bahit dovrà affrontare. Il re conta su di lui per evitare che il malcontento prenda la piega egiziana e tunisina.